Sono carichi? Assessore Panariti, oggi un appuntamento importante nel progetto della comunicazione non ostile, un appuntamento rivolto in particolare agli genitori, agli insegnanti e agli studenti. Certo, un appuntamento molto importante che continua a dire che le parole sono quelle che fanno al mondo e quindi sono le parole che possono fare anche molto male. Quando noi come regione abbiamo lavorato sul cyberbullismo, sul bullismo omofobico, le persone vittime di atti di bullismo parlavano proprio del dolore che avevano sentito quando determinate parole venivano usate nei loro confronti. Ecco quindi che è importante in un momento in cui si scrive, si scrive molto anche in rete, ragionare sulle parole, sulle parole giuste, sulle parole che costruiscono, sulle parole che creano ponti, sulle parole che mettono le persone in relazione, sulle parole anche del conflitto, perché si può discutere sulle proprie idee in maniera anche forte, radicale, però senza ferire e offendere nessuno. E credo sia importante che tutti i ragazzi insieme ragionino che sono le parole che essi sapranno costruire, e le parole che essi sanno e sapranno dire, a creare un mondo meglio di questo. Questa mattinata la stazione marittima è in collegamento con Milano, dove c'è la conduzione dell'evento a livello nazionale con Paolo Ruffini abbastanza disinvolta. Sì, forse è un po' troppo e lo dirò ai ragazzi, nel senso che l'uso, come dire, di parole, di turpiloquia, perché insomma di questo si tratta, forse, come dire, ogni tanto ci sta, non è che ci scandalizziamo, però c'è un modo di parlare che non ha bisogno di queste parole, e credo che insomma anche questa esperienza ai nostri ragazzi farà capire che le parole sono importanti e che bisogna saperle usare e anche sapere quali sono le parole giuste in quel momento e in quella dimensione. Un evento che stimola la consapevolezza come quello odierno può essere un utile antagonista anche al cyberbullismo? Sicuramente, noi da qui in questa direzione stiamo lavorando e quindi invito chi ascolterà a rispondere al questionario della Regione proprio sul condiviso con l'Ufficio Scolastico Regionale, con l'Università, sul cyberbullismo, perché proprio se noi studiamo il fenomeno, se capiamo se e come è radicato nelle scuole, riusciamo poi a lavorare affinché diminuisca o meglio ancora venga completamente cancellato.